L'America è un paese da svaliggiare. Cronache di un gangster a New York. Sei giorni nella grande mela per concludere il lavoro cominciato in Europa. Fra delinquenti e membri del governo, artisti e hacker, l'America è un paese da svaliggiare. Audio-fotostory di Alberto Pian, improvvisati durante un viaggio a New York, con le voci di Alberto Pian e Alessandro Vanni. Tutte le domeniche, dal 3 marzo al 14 aprile, sette puntate settimanali e un episodio finale che svela tutti i segreti di questa storia. Grazie a tutti.